No, non è un giocatore della Roma, ci manca a noi tra legamenti, crociati, rotule, cioè avemo tutti gli infortunati praticamente, però ogni volta che leggo ste notizie e soprattutto dei giocatori che stavano rientrando da un infortunio grave, mi dispiace sempre parecchio. Sto parlando del Napoli e sto parlando dei culam poraccio, cioè legamenti del ginocchio destro, stava rientrando da un infortunio oggi durante un allenamento, si è fatto male un'altra volta, da quello che trapela dalle notizie che ho letto potrebbe essersi rotto addirittura la rotola. Che cazzo di sfiga ragazzi, ste cose fanno sempre, lasciano sempre la maro in bocca perché comunque sono brutte cose da sentire, un giocatore che appena sta rientrata in infortunio ricasca, se li fa male e gli si riscoccia un'altra volta. Poi la stessa gamba, lo stesso ginocchio, quindi insomma ancora più grave che potrebbe allungare i tempi di recupero del giocatore, che potrebbe rivedere il campo non so tra quanto. Poi può essere pure che la rotola in realtà non è rotta, però insomma se hanno detto sospetta rottura dalla rotola, evidentemente qualcosa di abbastanza grave sotto c'è. Vorrei fare una piccola disamina, ma già ci ho fatto il video sul Napoli ragazzi, secondo me è una delle squadre, la seconda squadra più forte d'Italia, solo perché la Juventus è campione d'Italia in carica. Ma sulla carta, sull'undici titolare, Napoli e Juventus se la giocano tranquillamente alla pari. In Napoli sul mercato avrebbe dovuto fare qualcosa di importante perché poi lo vedi, già Mertens non si sa se domani sarà della partita. Da quello che trapera, da quello che ho letto nelle probabili formazioni, probabilmente giocherà, però è ovvio che c'ha i giocatori contati e che se vuoi lottare per lo scudetto, De Laurenti, sai me, avrebbe dovuto fare qualcosa in più. Potrebbero esserci delle recriminazioni, non solo nell'ambiente Napoli e non mi riferisco solo alla squadra, ma anche in generale proprio all'ambiente aperto ai tifosi e tutt'altro. Perché? Perché comunque te stai a giocare veramente in tricolore, mannaggia la miseria. Sei un punto sopra la Juventus. Se, disgraziatamente, se scoccia qualcun altro, tu mi devi dire che cazzo ci vai a mettere là davanti. Ma a parte questo, io voglio sapere da voi che cosa ne pensate di questa cazzo di situazione nei commenti. Perché, insomma, gli infortuni uno non se li può mai aspettare, ma li deve mettere in conto. Questo è quello che penso io. Devi andare a prendere, magari non dico che devi fare una rosa di 22 giocatori proprio completamente intercambiabili, ma qualche alternativa o un minimo valida la devi andare a prendere, perché se no poi c'hai delle defezioni in campo, soprattutto se ti stai a giocare con Scudetto, poi certo, se ti stai a giocare quarto, quinto, sesto, settimo, decimo posto o la metà classifica, pazienza, quel che sarà, sarà. Però, insomma, dispiace perché non lo so quello che succederà, ma lo voglio sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ma soprattutto, ragazzi, facciamo un in bocca al lupo a Goulam che si è fatto male, spero che non sia nulla di glave, di glave, sì, so il cinesimo, e che rientri il prima possibile in campo. Detto questo, ragazzi miei, alla prossima con un nuovo video.